Amici miei, non ci sono scuse per il periodo natalizio perché qui abbiamo una dieta che ci può aiutare a perdere peso. E allora, siamo tutti già proiettati verso le feste, sì, ormai manca poco più di un mese e si mangerà un sacco di volte, ci saranno delle cene particolari, dei pranzi particolari, a cena di Natale, il pranzo di Natale, insomma, è tutta un'occasione sempre per cibarsi in maniera continua, ma del resto il Natale sappiamo che è l'occasione per ritrovare amici, parenti che non si vedono spesso durante l'arco dell'anno, no? E trascorrere insieme qualche momento attorno alla tavola, beh, fa sicuramente bene. Il rischio ovviamente è quello però di accumulare qualche odioso chilo di troppo che poi alla fine è faticoso da smaltire quanto veloce invece ad appesantire la bilancia. Il segreto, come in molti casi, è prevenire cercando di raggiungere sempre se possibile il peso forma prima del periodo di Natale, così, in modo che se ci dovessimo appesantire leggermente, ma noi pesavamo prima di meno, automaticamente non peseremo di più. So se ci siamo intensi. Ma ogni routine salutare che si rispetti richiede impegno, sia nell'alimentazione sia nell'esercizio fisico, quindi è bene fare attività in maniera regolare e in questo modo riusciremo ad allenare il corpo prima di dover affrontare i pasti più abbondanti con il resto della famiglia. E che si tratti di una sessione di training in palestra o di una semplice corsa all'aperto, di una bella nuotata in piscina, la cosa fondamentale è la costanza. Quindi, una volta allenato il fisico, l'attenzione si sposta a ciò che si consuma i pasti. Nelle settimane che precedono le feste, meglio evitare per esempio cibo da sporto, tipo fast food, ve lo devo specificare, McDonald's, Burger King, andando invece a privilegiare i piatti sani ed equilibrati nei nutrienti. Tra i consigli che i nutrizionisti raccomandano c'è anche quello di evitare l'alcol per almeno 4 giorni, dai, insomma, non è tanto. 4 giorni a settimana significa che 3 ti puoi abbuffare e puoi bere, senza esagerare. La riduzione di bevande alcoliche, infatti, abitua all'organismo a sentire sempre meno la necessità, aumentando al contempo la sensazione di energia. E in assenza dell'appesantimento generale dovuto all'alcol, si sarà anche più produttivi nel corso della giornata, che sia a livello lavorativo o non. Questo perché il fegato percepisce l'alcol come una tossina, e come qualunque sostanza nociva, nel momento in cui viene meno la salute, assolutamente migliora. Per non parlare dei benefici sulla bilancia, considerato che i drink apportano calorie, di cui invece possiamo farne a meno, beviamo l'acqua, dai! L'alternativa migliore è concedersi ogni tanto un bicchiere d'acqua frizzante, ogni tanto, magari con lime, o del succo d'arancia, o una tisana calda che fa bene anche alla voce. Questo è tutto, cari amici, per questi consigli, vi ringrazio per l'ascolto, noi ci sentiremo alla prossima. Se il video vi è piaciuto, mettete like, noi ci sentiremo al prossimo video, sempre qua.